Io mi chiamo Luisa, sono l'operatore per il VTAM, la mia agenzia è basata a Timpoo. Io sono qui sul posto e sono qui per aiutarvi, consigliarvi. Speramente la gentilezza della gente, una gentilezza di un'altra epoca e anche la bellezza della natura. Sul sito Evanios cercate la destinazione Bhutan e lì si trova il mio profitto. Grazie. Grazie.